Le sto solo chiedendo di accettare tutto di se stessa. Capisce, se non ci accettiamo per quello che siamo, come possiamo poi accettare il nostro prossimo? Si assorbe immediatamente, non lascia nessun residuo, è un ottimo prodotto. Tu e lui siete la stessa persona. Eh no caro, è qui l'errore. Io e lui siamo due persone differenti. Voglio sapere chi sono, che scuole ho fatto, da dove vengo. Voglio essere come te. Lo so chi sei Alex, lo so cosa hai in mezzo alle gambe. Ho bisogno di sapere chi è di prima di iniziare il processo di trasformazione. Vorresti lavorare in una profumeria. È il mio sogno. Oh senti, ma il sogno di un ragazzino non dovrebbe essere fare il meccanico o l'astronauta? Non è mio. Ecco a tutti. Grazie a tutti.